Fratelli e sorelle carissimi, Gesù nel Vangelo di oggi pone delle domande. Anch'io voglio iniziare con una domanda che forse non si addice alla fine di un anno di studio. Domanda semplicissima. Quando termina il cammino di formazione? Penso che sia abbastanza ovvio che meno per prudenza uno dica non termina mai. Ma una domanda con la quale vengo confrontato alcune volte, ma chiaramente non qui al collegio, ma forse per quelli che sono candidati a venire al collegio, quando termina la formazione iniziale? Buona domanda, domanda da porre al procuratore generale o a quelli che studiano diritto canonico. Perché nelle nostre Costituzioni c'è un passaggino che non è chiarissimo. Però non è soltanto una domanda di tipo canonico. Direi che è una domanda interessata. Perché se ho finito la formazione iniziale non ho più bisogno di un padre maestro. decido io. Ma altra domanda. Chi è un buon formatore? Io direi così, per l'esperienza, un buon formatore deve avere due qualità. Prima, che dia l'esempio. Seconda, che intervenga nel momento giusto. E il Vangelo di oggi, il Vangelo di oggi ci introduce, ci presenta proprio il formatore per l'eccellenza Gesù. È importante sapere cosa precede questa pagina di Vangelo in Luca. La moltiplicazione dei pani. E il Vangelo dice, Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Aveva appena compiuto un gesto strepitoso. Un gran successo. E si ritira a pregare. Perché? Cerca un momento di intimità con Dio. Di raccoglimento. E in questo, certamente, dall'esempio. Dall'esempio ai discepoli. Però i discepoli sono stati i spettatori di quell'evento. E la domanda che Gesù pone loro mi fa pensare che Gesù stesso si sarà chiesto, nella testa dei discepoli, a cosa stanno pensando? Dopo che hanno vissuto questo momento glorioso, forse stanno pensando che ormai si passerà da successo a successo. Trionfo a trionfo. E Gesù entra così delicatamente e dice, la gente cosa dice di me? E allora la risposta, Giovanni il Battista, profeta Elia, è un grande, un profeta dell'antichità. Cioè, qui sta rivivendo tutta la storia di Israele. Ma poi Gesù chiude il cerchio e dice, e voi? E tu? Tu cosa dici? E Pietro, abbiamo sentito, dice, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Ma Pietro, cosa si, cosa pensa dicendo questo? Come lo se lo rappresenta? Appunto l'uomo del successo, l'uomo che li farà diventare tutti grandi? Ed ecco che in questo momento Gesù entra e ricorda loro qual è il cammino che lo attende. Un cammino di rifiuto, un cammino anche sofferto, un cammino che gli chiederà di donare se stesso, di testimoniare la verità della missione che il Padre gli ha affidato fino alla morte di croce. Quindi chi pensava di arrivare facilmente alla gloria deve fare un cammino anche lui. E Gesù proprio questo dice, no? Chi vuol essere mio discepolo? Chi vuol venire con me? Perché? La prima cosa che deve fare è rinnegare se stesso. La domanda si va, ma come faccio a rinnegare me stesso? Non posso, sono qui e dire non ci sono più. Ma forse c'è una parte di noi che va ridista. C'è sempre una parte di noi che va ridiscussa. Io credo che non per nulla San Francesco, nella regola non bullata, quando le citazioni evangeliche, c'è anche questa citazione, rinneghi se stesso. Rinnegare se stesso vuol dire rimettersi continuamente in discussione. Avere il coraggio di accogliere anche un intervento che ci sembra improprio. Avere il coraggio di accogliere da qualsiasi persona una, come dire, un'osservazione. Io ricordo una volta ero giovane guardiano alla Madonna del Sasso e venne ad abitare con noi il nipote di un nostro frate e così parlando mi chiese ma lei fra Mauro, lei cosa fa? E io così dissi ma io ho fatto un dottorato. Ah dice ma ci tiene lei a questo eh? Oh la la, è come se mi avesse dato una sberla per dire ma è la cosa più importante della tua vita questa? Io non credo che sia la cosa più importante della mia vita. È il cammino che ognuno fa su di sé. Rinneghi se stesso e poi Gesù aggiunge e prende su di sé la croce non di tanto in tanto. Se fosse di tanto in tanto potremmo dire beh così sì ce la faccio. Gesù dice ogni giorno, ogni giorno. Il che vuol dire accogliere la realtà che ci circonda, accogliere le situazioni, anche quelle scomode, difficili. Che vuol dire accogliere tutto questo con amore, con una disponibilità alla crescita, con una disponibilità veramente a trasformarci, a rivestirci di Cristo, come ci ha detto San Paolo nella lettera ai Galati. Rivestirci di Cristo. E allora io non ho granché altro da dire ma l'invito è proprio l'invito del profeta Zaccaria. Guarderanno a colui che hanno trafitto. E noi in questa Chiesa possiamo guardare colui che è stato trafitto e che ormai è entrato nella gloria e può dire io sono la via. Ma è la via che porta appunto attraverso la sofferenza, l'amore, l'accoglienza della realtà, il saper gioire, il sapersi donare. Allora io auguro a voi tutti che avete terminato questo anno di formazione accademica, non dimenticate che c'è una formazione alla nostra vita, una formazione a rivestirsi di Cristo che non finisce né con un anno accademico né con l'ottenimento di un titolo di un titolo accademico, ma che è il lavoro paziente che facciamo quotidianamente su di noi. È il lavoro che esige molta umiltà e molta apertura per lui lassù, per lo Spirito di Dio. Che ci illumini, che ci rallegri questa sera nel fare festa, ma che ci renda anche capaci di un ascolto profondo che viene dal cuore. Amen.